Suss, no? Muoriti! E ora ci sono! Ah, che voglio fare qualcosa! E se è sium, facciamo sium! Tanto bellissimo che sono buggato nel letto, vero Andre? Sì! Posso dormire così? E dormi, va! E qua? Che c***o stai facendo? Ingrandiamo un po' la cam Che c***o stai facendo? Dove lo mettiamo il follower goal? Tipo, qua! Oh, oh! Che spavento! Porco di... Bambino monco, bambino monco! Non gridare come un pazzo, guarda! Ti abbassa leggermente l'audio! Te lo metto a novanta... No, a novanta magari no! Oh, molto meglio! Hai visto... Hai visto... Fepentola! Fiaofentola! Fiaofentola! Presto avrà un nome! Ma è foro, cioè... Per esistente! Stai c***o gli salti sopra! Anch'io salto sopra delle cose, però non sono pentole! Bro! Eh? Sai cosa? Ti customizzo la skin in live dopo! Magari mi ricordo subito di cambiare categoria oggi! Sì! Oh, qua c'è una... Per scale! Ah, sì! E tu vuoi una Rau... Una Raukiken! Raukiken! Prendile pure! Sì! Eeeh... Perché vedo tutto un po' strano? Ah! Vero! Shaders! Eh, ora è meglio! E' proprio, è vero! C'hanno un motion blur bellissimo queste! Sono le Sildos Vibrant! Vabbè, è un classico però! Per cui? Bro! Eh? Voglio fare una marachella adesso! Oh, cos'è? Ah, hai visto! Ho fatto una marachella! Eh? Va che bella marachella! Oh! Però, ehm... Io non capisco un cavolo con la mia texture! Non so, cioè... Le foglie sono... Tipo... Ma che si chiama? Cioè... Quando... No, no, ma tu non farti domande! Quando... Come faccio? Perché non posso usarlo? Aspetta, ti tiro la zappa di pietra in testa! Perfetto! No, voglio... Io non ho permesso di farlo! Eh, purtroppo no! Se basta! No, ma non è colpa di... Perché? Perché? No, ma... Perché? Cosa? No! Eh, qua non cade il blocco... Bro! Eh... Piove! Eh, sì! Giustamente ci riscaldiamo con... Con questo! Che me... Eh, cosa facciamo? È una cala... Questo è il pavimento... È cresciuto sto grano, sì! Grano! Potremmo... Ma è temporale o pioggia? Ma è un ascio? È una pioggia, secondo me! No, però ti posso dare gli stick perché ne ho tantissimi e non mi servono a niente! Ah, buonasera Mattia, buonasera! Sapete cosa aspettate? Allora, ho messo l'iPad come terzo monitor, SUS, vero? SUS! E voglio mettere la chat un po' più... Solo che ha un refresh rate di 30 fps e sapete che 30 fps su un monitor fa schifo! Però l'iPad in verità è a 120 fps, quindi... Mi stai insultando? Ah, ho l'autogjump! Ma che c***o ha messo? Scusi, non c***o ha messo la... Scusi, non c***o ha messo la... No, intendo sul monitor, non su minecraft! Ah! Cioè, proprio vedi il monitor che va a tro... Ci vorrei andare io a tro... Però... No! Tu non ciulare da quest'access perché, guarda, io mi ricordo tutto quello che c'è dentro! Aspetta che voglio cambiare il texture, assolutamente! Vuoi... Ce l'hai la live lì che ti rende l'erba più verde? Che senso? E l'erba un po' più bella! Bro, ti voglio far fare una cosa, aspetta! Bro, ti faccio fare una cosa che mi ringrazierai! Vieni qua! Aspetta che sto cambiando il texture! Vieni, bro, vieni! Aspetta, mi sta caricando! Ma sus, vero! Fiao, eh... Fiao anche da lui, ragazzi, è fornato anche lui! Vieni! Aglio, aspetta! Eh, eh, eh... Oh, mi ammazzo! Ah, sì? Ecco, ha caricato! Non ci trovare! Guarda, ti faccio fare... Qua, qua, qua! Ho una spalla! Cos'è? Guarda, guarda un po' che cosa ho in mano! L'erba! Esatto! Vieni, vieni! Allora... Ho capito! Aspetta, sto sbagliando! No, cos'è? Cos'è, cos'è quello? No, perché se no non vedo una se... Ma por... Guarda, eh... Ah! Ah! No, la voglio fumare! No! No, aspetta! No, aspetta! Ah! Ma che buona! Grazie per il follow, FireWGF! Buonasera! Tu sei sus! Sei una persona molto sus! Tirate diecimila! No! No! Un cuore medio! Ciccio, ma mangia! Dov'è il mio The Rocktopus? Scusatemi! Cosa? Il The Rocktopus, sì! No, dai! Ho aumentato il pollo crudo per... Bro, non ho più il mio The Rocktopus! Me l'ho anciulato! Cos'è? È una cosa... Sus! Oh, l'ho perso! Fa niente! Comun! Facciamo una casa, visto che non c'abbia niente da fare! Ma questa è casa mia! Ah, è casa di entrambi! Eh, c'è... Va bene! Tu hai la text di Eme? Beh, no! No! Porca di quella puttana! Si è stata tu, cazzo! Bro, io ho rotto solo la cesta così! Eh, ho visto! Tranquillo! Mi servono... Eccole qua! Vediamo se funziona! Comunque, guarda! No, non funziona perché non ho l'Optifine! Guarda! Che cazzo è combinato sotto casa mia? Eh, no, quando è rovinato da sotto! No, mi hai tappato sotto! Apri! Sai! Sì, ma la cesta da dove minchia l'hai presa, scusami! Non lo so, l'avevo nell'inventario! Ah, proprio così? Cioè, tanto perché? Sì, mettila in canina! Non lasceremo qua! Semmai è una soffitta, semmai! Cosa facciamo? Ma non lo so io che ti devo dire! Io che cosa vuoi fare? Facciamo un acquario! Perché ho che hai la fin via! Cioè... Aspetta, non riesco a scendere! Pulizia estiva! Ma... Madonna mia! Ahahah! Ahahah! No dai che ho tre cuori, aspetta! Ma... E' giorno, notte... E' giorno, notte... Un po' Prego a dormire! Extraordie mi inserite, non ti ricordi com'è? No, ma è perché non ho l'Optifine! E certi oggetti rinominati senza Optifine non si possono vedere! Sì, ma ho le shaders, però... Con che tasto l'ho impostato? Con... C... X... Y... No! Buonasera, Fire! Buonasera! Con che tasto l'ho impostato? Con... O! Ho delle shaders che però non sono utilizzate dall'Optifine, è una mod... Diciamo! E... Andre, oggi dobbiamo soprattutto prendere tanta pelle! Ok, ho dovuto ammazzare le macche... Sono appena arrivato... Che state giocando? Allora, è la nostra survival multiplayer, come... E' un... Pandora S&P, non so se la conosci... E... Niente... Andiamo avanti... Vì... Però non si vede letteralmente una minchia... Tolgo le shaders... Così si vede un po' di... Metti la tarcina a scena domani! Non ho l'Optifine! Ah! Non l'ha capito questo povero imbecile! Dobbiamo cercare le mucche! Le mucche, le mucche, le mucche, le mucche... Dopo andiamo anche a farci un po' di bedwars! No! Sì esatto! Bravo Matti! Bravo che aiuti la community! Ma intanto prendiamo... Manca un po' di legno va! Quante... Quante pecore... Oh... Oh oh oh... Amazziamo tutte... Tu sei una pecora ciccio! Oh! Ma ce ne ho una nera! Non dico... Stavo per cagarmi addosso su quello che stavi per ti! Però... Meglio se dormiamo no? No che cosa stai dicendo? Io non so neanche se... No perché io vorrei... Però... C'è un creep però! Mmm... Perfetto! Mmm... Però ma perché per leggere la chat da telefono devo tirare in basso? Cosa? Devo tipo riafresciare la chat per vogliere... Strano! Sei rotto tu penso! Non lo so! Non so cosa dirti ciccio! Comunque non ci sono meccati! Ciccio! Pasticcio! Mangia il cattoccio! No 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 no! Cos'è questo ragno? Straveloce! Quante... Bro! Quante tartarughe! Quitta! 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 Quitta un secondo! Grazie! Ho trovato tipo 20 tartarughe! Saranno... Sarà la famiglia di pentola! Dai mettiamo... No bro! Deve venire qua bro bro! No ti giuro vieni! Hai lo spazio! Cioè... Bro! Ma si ne prendiamo due! Bro! Sono bellissimi! Eh come si crafta un pistone? Mamma mia vita! Ehm... No bro! Stanno scappando vieni! Eh un attimo! Un attimo! Un attimo! Manca uno di ferro e uno di redstone! Ferro! Stai giù tra... No mi dissocio! Povera tartaruga! Eh ma cazzo! Ehm... Com'è che era? Così! Perfetto! E una leva! Poi capirai cosa mi servono! Arrivò Andre! Oh! Ho detto la pietra! Coordinate! Ehm... 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 97... 65... Meno... 721! E la madonna dove sei andato! La prima? 97! Ok! Quindi 100... A meno 720! Ok! Dovrei essere arrivato! Adesso giro di qua! C'è tutta una spiaggia... Mega enorme! È una foresta di Betulle! Sì sì! Nella foresta di Betulle ci sono già! Ehm... Qua c'è un... Canyon super bello! Sì! Lo avevo visto! Ok! Non sono caduto giù! Perfetto! No! Che cazzo fai? Ma io sto guardando tipo la live! Eh! Sto arrivando! E cring! Qui più o meno giusto! Ecco le... Ciccio ma tu dove sei? Bro! Non sono quelle! Guardate le cortinate! Aspettate le riscrive! Ah! Io ne ho trovato altre quindi! Vabbè! Queste sono più vicine! Queste qua sono più vicine! Prendiamo queste! No dai! Voglio farti vedere quanti sono! Perfetto! O no! Prendeva danno! Eh! Portiamola a casa! Vai! Vieni! 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 Andiamo a casa! Bro! Ma come ti porto io? Vieni da me che c'hai tipo il crassing table! Ma ne abbiamo già due a casa! Basta no! Poi gli facciamo fare la... Piccola! Eh! No! Per non dire una parola! Le facciamo sc... Esatto! Fuffi entra! Fuffi! Aspettate! Aspettate! Così è più ignorato! Andrei guarda un secondo la live! Che ignoranza! Ok vedo casa di Luca! Io le ho bloccate tutte! No ma vieni a casa! Tanto ne abbiamo già due! Questa sarà la tua! Questa sarà la tua! Ok! Vieni ora mi devi aiutare! Però io ho fatto un boom! In caso ci serviva! Allora così! Ma le mucche quindi c'è... No ho sbagliato qualcosa! Bisogna metterlo sotto! Così! Poi si tappa di là! No! Devo fare tipo... Una roba tutta strana! Trana! Una croce di Aerobrain ci sta! Allora la roba andrà qua! Eh mo come faccio a farla venire? Le api! No mi dissocio! No no no! No no no! Aspetta scaviamo questi due blocchi! Non so dove sto andando però! In teoria... Però dove sei? Sto togliendo l'acqua! Sì! L'ho tolta! Ma sto venendo giusto! Sì! Ho portato su pentola! Di un blocco però! Ok! Sono uscito qua! Eh! Prendiamo il pistone! E rimettiamo tutto a posto! Uno! Due! Tre! E... Ho uno qua! Posso prendere un po' di ferro per farlo e secchi? Anche no! Cioè... Sono le mie CS! No cioè dai! Basta che non rubi l'oro e i diamanti! Il resto... No così! Quello! Che miseria! Via il fiore! No! Sbagliato! Più avanti! Perfetto! Devo fare tipo... Un'oasi! Della tartaruga! Su! Qua dentro! Adelistica! Adelistica! Arrivo Andre! Apri... Apri questi due pezzetti di legno! Scava! Ecco la tua pentola! Nice! Voilà! Abbiamo l'allevamento di tartarughe! Poi le faremo fare il piccolo! Vieni, vieni, vieni! Che c'è? Guarda! Ho pensato! Guarda il buco! E dove mettono tutte l'acqua! Sai cosa? Fa luce lo stesso la torcia! Perché le shaders la... Anche se non ho Optifine! Ah sì! Qua c'è il fuori! Cosa vuoi fare? Una miniera? E qua metteremo tipo l'erba! L'acqua! No, 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 no! Non si mette l'erba! Ah! E cosa mettiamo la sabbia? Per le uova! Le uova, è vero! Mettiamo sabbia e facciamo... Facciamo uno stagnetto sotterraneo! Esatto! Dai! Possiamo cominciare l'idea? Esatto! Allora, ci servirà sabbia! Magari prima dormiamo, no? Sì! Un po' cuoco! Dormi, dormi, pirla! Dormi, pollastro! Ti ho dato un po' di carne! Ne avevo! Ho visto! Aspetta! Oh, dai! Un contenetto! Qua c'è la pasta! Eccomi! Grazie per la carne, anche se non ne ho bisogno! Ci serve! Cane da zucchero! Faccio una pala! Anzi, vai a raccoglierle da dove è cresciuto! Non prenderle da qua, le canne! Sì, magari anche due alberelli! Semi, no? Sì, invece in verità ci possono servire per qualcosa! Quindi! Semi! La sabbia! Tu cominci a fare il buco? Magari? Comincia a scavare una roba regolare! Prendo solo la pala! Quindi, ma vai te a prenderle! Prendo la sabbia, sì! Quanta ne prendiamo? Uno stack? Due stack? No, no! Fatta che ti do la spalla! Ma serve per forza la sabbia? Possiamo utilizzare anche la terra! No, secondo me è meglio la sabbia! Ma se li vai! La ruberò da qua! Faccio il napoletano! Sennò possiamo fare l'interno con la sabbia e poi i lati con la terra! Così è più carino! Sì! E un piccolo spazietto dove le tartaruche possono fare se... Il bagnetto! E beh, dovranno pure riprodursi, no? Giusto? Sì, sì! Non in quel modo però, vero? LOL! Molto su sta roba! Cos'è? È la porta della cantina! Terra non ne ho qua, sì! Io vivo in cantina prima! Sì! Dopo ti faccio anche uscire, se vuoi! Dopo... Vedete! Ci guardiamo un film! Ci sta, secondo te, guardiamo troppo il rischio! Volevo farti vedere... Un po' di film con Amazon Prime, però... È vero, ti puoi guardare i film con Amazon Prime? Sì! Come va lì sotto? Bene, devo fare le scale! Sì, dai! Qua è abbastanza già a fondo! O no? E va bene, quindi... Ma sì, dai! Fammi vedere qua! Qua si può... Tappare... In qualche modo, sì, dai! Ci penso io a tappare sta zona! Vai, cominciamo a fare tutto lo scavaggio qua! Deve essere una cosa anche un po' irregolare, perché se è tutto uguale è un po' brutto, vero? Ah, sì! La parte sotto la facciamo, tipo, come se fosse normale! Cominciamo a fare un... La parte superiore dello stagno, no? Poi ci possiamo coltivare anche le canne da zucchero, magari qua sotto! Toglierai sti blocchi qua! Non è troppo pochino! Ah, te ne serve? Sì! Tieni! Basta? Sì! Se mai dopo ne andiamo a prendere altre! Ok! Allora qua lo alzerei un po'... Così! E niente, poi qua facciamo una roba del genere! Acqua qua! E blocchi! Qua! Perfetto, finito! È una specie di piccola grotta! Molto carina, se ci pensi! Allora lasciamo qualche torcia per illuminare, che non spawnano mob! Uno anche qua sopra! Come procede? Su e me la radio! Ah, c'è bisogno l'acqua! Sì! Da qua! Eh... Facciamo la fonte infinita, va? Sì! Qua al centro, tanto! Perfetto! No, fai così! Parti dal basso a riempire! Parti dal basso, così è acqua piena! No, da più in basso, ciccio! Aspetta! Aspetta, 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 aspetta! Stai facendo un casino! Togli tutta l'acqua! Togli tutta l'acqua! Ok! Ok! Rendiamolo... No! Aspetta! Ciccio! Ciccio, toglila! Allora, è brutto! È un angolo, così! Dobbiamo renderlo più omogeneo, dai! Ma qua andava bene! Era da scavare di lato! Qua! Eh, vabbè, il legno! Poi voglio metterci la salada bianca, non solo la terra! Lascerei così! Così facciamo anche, la staggia si vedete qua su! Poi qua anche, l'ha scavato un po'! Voi, con anche te, io vado a prendere la staggia! Adio così non si vede niente! Non so dove ci siamo più! Qua mettiamo poi tutta la terra, giusto? Sì! Però mi è venuto in mente che se vogliamo fare una birch forest, ci servono i sapling di birch, vagli a prendere! Tanto abbiamo le foreste di birch vicine, le scavi un po'! Ma lo hai messo tu questo blocco verde? No, è diventato verde perché qua c'è sopra terra! Probabilmente farà tutta la chiazza in giro adesso! Poi dobbiamo far diventare verde anche quella zona lì, eh! Eh, cosa dè che devo prendere? I sapling di birch! Prendine due, non di più! Hai altra terra? Sì! Grazie! E vabbè, io priazzo la cobblerson in un posto della terra! Eh, bro, mi sono lì dimenticato! Ehi, bello! Sapling! Ah, giusto! Del legno lì e quello... Birch! Legno chiaro! Si chiama legno normale! No, legno normale è l'Owak! Bru! E qual è? Quello che è? La birch! Quello chiaro! Qual è? Bianco, Dio caro! Dio c***o! Ma non si riesce a capire un c***o! La betulla? Sì! Ah! No, ma questo è scemo, eh! Boh, ma dicevi betulla! Carico una dexter, vediamo com'è! Sono le 9.54, tra un po' si vanno a fare le bedwurst, signori! Oh, ma che bella la torta! Ma cos'è sta bellezza? Cosa? Sono tutto tra le bedwurst! Eh, ciccio, ti divertirai un po'! So che bestemmierai! Porco di... Però, eh, ormai... Questi due blocchi e dovremmo aver terminato, va solo scavato il soffitto! Eh, un blocco qua! Uno, due, tre... Bro, ma mi cado in un solo stick! Eh, pian piano lo troverai, no? Oh, no! Boh, non ne vale la pena di fare... Bro, c'è un creeper sopra che la nostra! Beh, se utilizzassi... No, niente... Così è bella! Abbiamo creato una bellissima cavernina! Anzi, sai che cosa? Potremmo fare un mini stagno dentro qua! Così, piccolino! Ma quanto è bella questa texture pack 3D! La vuoi, Andre? No, va bene! Ma figa! No, ma... Non so se non me la legge! Ma, eh... Non dovrebbe... Cioè, sì! Ho sbagliato blocco dove piazzare... Qua... Poi qua... Poi qua... Poi al centro... Qui... E infine lì! Anzi, facciamo un altro blocco... Perfetto direi, no? Oh dai, ma non in caso non è stopping! Eh, ciccio, li troverai prima o poi, dai! La cosa più semplice da trovare è che rompe sempre il coglione! Vero, vero! Sa che questa live, quando la ricarico su YouTube, la chiamo... Pentola a una nuova casa! Ehm... Se no, fa niente! Prendi un po' di fiori rosa! Quelli alti? Sì! Prima l'avevo visto! Turudurututu! Ah, devo mangiare! Un po' di cibo! Bro! Quanto è figa la mia casetta! Così! Pentola 1 e pentola 2 ci sono! Dormiamo! Aspetta! Ok, vieni! Fiume, ragazzi, bellissimo, ta roba! Bro, quando muovo la visuale vedo tipo i frame! Cosa? Al termine intero quando muovo la visuale a volte ho i frame! Boh! Cioè vedo proprio che si muove... Ehm... Però non so, mi fa strano questa... Piesto block! Ok, vieni! Prendo anche i fiori rossi, io non se lo prendo! Cosa? Poi io prendo un po' di fiori! Prendi un po' di tutti i fiori, dai! Ehm... Ci servirebbe un blocco di terra! Blocco di terra non lo possiamo rimediare da nessuna parte! Ho trovato la foresta! A meno che non troviamo Silk Touch! Allora, Luca aveva un enchanting! Sì, vado anche io! Vado a... Vado a cercare Silk Touch! Boh, questi lapis basteranno, no? Così, troppo! Ehm... Mi serve un po' tutto! Magari lascio il 4 di legno! Giusto, devo mettere... Queste! Vala, che velo! Qualcuna anche qua! Una qui! Una qua! Aggiungerei una qui! Una sotto! E... Togliamo questa e ne mettiamo una qua! E una qua! Ma va che bello stagno! Però ne vorrei aggiungere altre! Dove ho lasciato la mia... Shears? Eccola qua! Ma se io faccio... No, eh! Volevo prendere il bluogo di terra con... Anche ci avevo provato una roba! Ok, ho fixato! Allora, mi serve... Le alghe! Mi servono le alghe! Secondo me dovrebbero mettere un modo per avere lo... Eeeh, non lo so! Eccole qua! Una... Due... Una qui! Ce n'è altre? Aha, eccole! Vieni qua! Trovo solo in sta foresta da mezz'ora o solo tre tappi? Ok, questo è basto, dai! Tre! Vi ha tutta sta cobblestone che ne ho troppa! C'è una piccola che da lontano il mucco... Una mucca! Tu, tru, 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 tru... Tre mucche! Quattro mucche! Cinque! C'è pure una piccola! Un mucchino! Adesso lo ammazzo! Ah, esatto! Prendi la pelle, bravo! Ecco il maialino! Ho fatto un'intera fattoria! Il maialo! Oh, yeah! Bello il verso del maiale, Andre! Via! Bene! Vado a cercare Silk Touch! Uno che ha scritto una roba! Eh, è vero! Mi sono dimicata leggerata! Vai un attimo al comando slash ley così vedo se... Ah! Allora così non mi si vede! Se vado in F5 è chiaro che mi si vede! Poi tolgo l'armatura... Si vede così! Sus, vero! Solo per morire! Allora... Lui tiene... Eccola qua l'enchant! Sono perso! GG! Eh, mi sa che non lo troverò, vero? Giusto! Serve la grindstone! Ehm... Così! Come si craftava la grindstone? Ehm... Così! Come si craftava la grindstone? Dovina cosa sto facendo per prendermi... Un Silk Touch! Unbreaking! Vai! Eccency! Unbreaking! Unbreaking! Niente! No, niente! Mi sa che non lo troviamo! Forse devi avere più esperienza! Eh, mi sa di sì! Per forza! C'era tipo un comando per prendere l'esperienza in Black Eye? Eh? C'era tipo un comando per autoprendersi l'esperienza! Ah no! Ma ti pare! C'è quella tipo... C'è quella si chiama di così! Non so se si può fare anche senso! Che cavolo! Non so, però esiste! Marti leggi! Non mi si vede più sopra! Non mi si vede più sopra! Però con gli icon ti posso... Padre picconi! Se ne vedono due! Eh, boh sei buggato tu! Non so cosa dirti! Cioè... Potrà essere perché... Magari non hai Minecraft Premium! Non lo so! Non so se hai Minecraft Premium o no eh! Ok, la terra sta crescendo! Io ne sono terra! Allora! Torce! Ve lo mettere così! Ok! Torcia qui! E... Torcia qui! Cosa? Eh... Me! Tieni! Allora! Mi piacciono le cose simmetriche quindi... Torcia pure qui! E il 330 e il meno 405? Quali sono? X e Z? Cioè... Ehm... Bro, eh! Quali altre coordinate dovrebbero essere? La Y non ti serve! Ehm... Quali sono? X e Z? L'ho ritrovato la casa senza le coordinate! Sai perché? Ma madonna mia! Tu sei... Ma... Perché ero... Avevo fatto tipo il giro del mondo! Il giro del mondo in 80 giorni... In 80... Secondi! Sì! E sono tornato! Ero spawnato! Ero spawnato! All'inizio! All'inizio! Da qualche parte! Ho rotto le cose! Cosa? Vabbè! 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 Vai! Metti una gesta qua da qualche parte! Non ce l'ho! Madonna! Craftala! Non ce l'ho il legno! Te la metto qua la grafting! Sei cose! Poi ci possiamo mettere due o tre cose tipo... Una fornacea! Bro dove c***o sei andato? Qua magari ci mettiamo due porte... Giusto per... Dormi! Questo non si vuole che mettere la figlia! La madonna! Bro! Sì? Figlio... Di una p***a! Dopo c'è un creeper! Dove? Però la casa c'è un creeper! No! 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 Tensione! Quella ce l'ho mai! Mi sa che era quello sopra la casa! Te la combo! Nice! Sì! Queste erano due forse! Carne! Ti ho ciulato! Ancora! Eh! Qua non si possono mettere! Così? Sì! Non è la roba più bella da vedere! Però almeno siamo protetti! Sì! Ma che c***o di buco hai fatto qua sopra zio! Cos'è? Cos'è sta acqua? Che c'è? Bro! Cosa stai facendola? Aspetta! Sto tappando il tuo disastro! Non ho fatto niente! Ma tu sei un disastro umano! Sbombino! Ma ora che va via! Qua lasciamo un pochino che se dobbiamo andare... Ci mettiamo delle scale e facciamo una specie di... Levati! Qua ci mettiamo poi delle scale! Anzi! Te le faccio adesso! Ma che c***o? Bro! Quella è il copyright! Bro! Ok! Si può fare così? Sì! Bro! Ok! Qua ci sono tutti i fiori! Mettiamo i semi! Bro! Ehi! Bro! Fai stupido! No! Mi sa che è andata a FK ragazzi! Sì! Sì! Se la lasciamo qui e direi che possiamo anche andare su... Magari prima portiamo le due tartarughe! Prendiamo le tartarughe e le portiamo... Prima devo aprire qua! Ecco! Ah! Eccoti! Bene! Portiamo lì le tartarughe! C'è solo un problema! Devo riprendere il pistone e fare casino! Aspetta! Non c'è la scala! No! Non funziona quella scala! Ok! Porta questa lì! Che stai facendo? Bro! Si fa così! Pistone! Leva! Tira la leva! E si porta avanti! Vai con l'altra! Cazzo! Aspetta! Un'altra! Oh! Ok! Oh! Era giusto! Vai avanti! Vai avanti! Vai! Metto l'altro pistone! Tiro la leva! Sali! Vai! Una c'è! Oh! Sono rotto! Vabbè! Portiamo giù questa! Sembriamo tipo un traffico di spartatori! Eccola qua! Stai qui e sguazza nel tuo! Oh cazzo! L'hai presa? Troppo! Eh! Vado a prendere delle alghe! La possiamo arrestare! La possiamo arrestare! Ressare! Vabbè! Metti qua dentro! Metti qua dentro quello che non ti serve! Così quasi magari riusciamo a farle fare anche un piccolo va! Eh! Se facciamo noi gli altri! Li facciamo fare sium! Bro! Una sta andando alla frezza di me! Hm? Ok! No sto tornando nulla! Vabbè! Ma tanto possono girare qui! Oh! A me sembra che gli piace! Sì! È molto carino qua! Pentola ha una nuova casa! Anzi! Le nostre pentole! Ah! Tu me la puoi chiamare? Almeno abbiamo fatto qualcosa! Eh! Non lo so! Io pentola! Una delle due! Poi vedo! Mi servono le aghe! Eccole qua! Una! Due! Tre! Boh! Così basta no? Non devo prenderne troppe! Un'altra! Boh! Venti aghe bastano no? Tuturum! Ma se aggiungissimo due torce giusto per un po' meglio no? C'è più luce adesso! Buoniamo anche un po' Eh? Buoniamo anche un po' Sai cosa? Aggiungi qualche blocco casuale di cobblestone qua e là creando una stradina però di tre blocchi dritte eh! Cobblestone un po' a caso! Anche così! Anche così! Cobblestone terra e tipo così no? Ma di tre! Si larga tre! Fai un po' casuale! Ma non così! Ripiazza questo che hai rotto! Metti un po' di terra, un po' di terreno e un po' di cobblestone no? Ce ne hai cobblestone? In dove? Si! Ma boh! Qualche blocco! Così è già abbastanza! Facciamo ok collega tipo là! Vabbè si dai! Usa la... anche qui! Sto blocco! Se faccio io! Un po' rotto eh! Si! Vado da... A far recuperare vita a pentola! Ok! Alle pentole! Ehm... Sai qual è? Uh! Bru fanno il piccolo! Bru! Fanno s*****o le tartarughe! Assurdo! Se siete dei bambini non guardate in questo momento che potrebbe farvi male agli occhi! Ma... Dio che è brutto senza shaders! Perché? Non lo so! Sono troppo abituato a vederlo così! Si! Anche me fa schifo! Cioè io lo sto guardando! Hanno sepolto le uova! Mettranno l'uovo! Boh! Dovrebbero farlo sì! Dove sta andando questa? Oh ho sentito un blocco! Boh! Ma muove la testa! Guardala! Guardala! Ciao pentola! Però l'unica cosa è che non dobbiamo rischiare di saltare qui sopra! Già! Ehm... Dovremmo prima o poi far diventare quella terra verde ma tranquillo che lo faremo! Ehm... Bru possiamo concludere anche qui eh! Vieni! Esatto! Anzi concludiamo con le pentole a sto punto! Uh! Magari una... No niente slab! Ci sta! Bello! Uno anche qui? Eh... Qua! Qua 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 qua... basta basta! Va bene ci sta qua! Se no puoi aggiungerne un paio qui guarda! Tipo... un blocco scavato... Fai cobblestone qua! Qua lasciamo terra! E boh! Se vuoi mettine uno qui o lì... Lasciamo a terra! Perfetto Non so Così? Sì, andiamo dentro Prima che spawnano i mob Mettiamo le forze Sì, qualche Magari per terra Che più bello, sì dai Però più vicine perché Così non crescono qui i mob Sì, lei ci sta Sopra il tetto anche perché Ma no, sopra il tetto va bene Tanto ci sono delle slab Non dovrebbero spawnare sulle slab Vieni giù dai Mi nascondo una qui Hanno fatto il piccolo? No Non hanno fatto il piccolo, peccato Però possiamo concludere Beh, non l'hanno ancora fatto Vieni Vieni dentro E lo tieni Si spegne da solo Signori, possiamo farlo Avvvvvič аша Im vaft Fatting Grazie.